Siamo con Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania. Oggi si è concluso qui a San Pietro Altanagro un percorso di formazione molto articolato che vi ha visti impegnati per tutto il 2014. Qual è il bilancio? Il bilancio è positivo, al di là delle previsioni. Noi chiudiamo con 55 corsi tutti gratuiti in 30 città della Campania, quindi dal Vallo di Diano fino alle montagne del Matese, fino a Benevento, i corsi del centro, siamo stati un po' dappertutto, 150 docenti, anche loro hanno collaborato tutti gratuitamente, non c'è stato nessun gettone di presenza e circa 8.000 presenze complessivamente, quindi al di là di ogni immaginazione, di ogni previsione. Questo naturalmente ci obbliga a impegnarci, se possibile, anche di più il prossimo anno. Innanzitutto saranno gratuiti i corsi anche nel 2015 e nel 2016. Campania, unica regione, grande regione d'Italia, a fare tutti i corsi gratuiti. Qui i corsi a pagamento non trovano accesso da noi. E questo meccanismo credo sta favorendo anche poi la realizzazione della formazione dell'aggiornamento professionale come noi preferiamo chiamarlo. Stanno collaborando tantissimi magistrati, professori universitari, avvocati, professionisti e tantissimi giornalisti. E ad ogni appuntamento, e questo è successo anche oggi qui a San Pietro Altanagro, e io ringrazio Rocco Colombo che ha avuto l'idea di organizzare questo corso, e anche oggi sono avute tante altre proposte per il prossimo anno. Quindi c'è grande collaborazione, grande partecipazione. Veramente devo dire che all'inizio dell'anno avevamo un po' di preoccupazione perché era una prova nuova alla quale eravamo chiamati. E invece le cose stanno funzionando. E credo che alla base di tutto c'è questa grandissima collaborazione e la scelta iniziale nostra di fare i corsi totalmente gratuiti e di tenere alla porta questi corsi a pagamento che invece purtroppo in tante altre regioni si stanno realizzando con tante polemiche. Ci sono anche interrogazioni parlamentari contro questi corsi a pagamento che stanno proliferando in molte regioni.